Gli agricoltori guardano al futuro con una preoccupazione davvero crescente, il problema è che le questioni sono attuali anche nel presente. E' certo che sono anche nel presente e attuale, perché comunque per questo che ci sta facendo la comunità europea a livello nazionale, insomma diciamo che è una cosa che per noi agricoltori non va bene. Tutto il prodotto che abbiamo noi in Italia sembra che è un prodotto che oramai non ha più valore, non si possa mangiare più quello che abbiamo sempre mangiato. La dieta mediterranea era una cosa che per noi era un valore dell'Italia e quindi la stanno mettendo sotto i piedi. Cioè noi agricoltori non sappiamo più cosa fare e come comportarci, cioè se non abbiamo delle rappresentanze ma a livello regionale, a livello nazionale, a livello europeo. Cioè noi non andiamo da nessuna parte perché oramai nessuno tiene più conto di tutto ciò che facciamo, del nostro lavoro, di tutto. E noi facciamo dei sacrifici, cioè comunque grazie al nostro lavoro tutti manciano, tutti, insomma diciamo che il nostro lavoro produce pil, produce tutto in questa nazione, però è tutto sottovalorizzato e nessuno ci ascolta, nessuno porta avanti le nostre tesi, quindi diciamo che siamo un po' stufi di questa situazione e quindi abbiamo scelto di fare questa manifestazione come d'altronde fanno in Francia, in Germania, in Romania, un po' da tutte le parti e quindi noi ci vogliamo unire anche a loro e vediamo un po' che cosa succede a livello europeo soprattutto perché sono loro quelli che oggi dettano un po' tutte le regole e noi non sappiamo più cosa fare.